Salve a tutti e ben ritrovati a Chiasso News. Domani giovedì 17 settembre, vernissage del pittore Ro Milan, presso il centro del movimento di via Bossi a Chiasso. La mostra sarà visibile al pubblico gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria, fino al 31 gennaio 2021. Sabato 19 settembre, ultima serata con il mercatino serale di fine estate a Chiasso. Abbiamo parlato con l'organizzatore Alan Mazzolini. Salve a tutti, siamo qui con Alan Mazzolini, organizzatore dei mercatini serali d'estate qui a Chiasso. Un grande successo. Lui dice che è andata bene, in realtà abbiamo sentito altre voci che ci hanno detto che è andata molto più che bene. Alan, allora dobbiamo dare retta a te che dici che è andata solo bene o dobbiamo dare retta a chi Superpartes ha detto che è andata molto molto bene? Facciamo una via di mezzo? Facciamo una via di mezzo. Ok, allora raccontaci com'è andata. Dal mio punto di vista, essendo come organizzatore, reputo che è andata bene. Poi dopo c'è chi ha più esperienza di me e saprà meglio cogliere le serate. Ecco, allora il 12 mi dicono che è stato strepitoso perché abbiamo avuto appunto ben tre concerti, due in piazza e uno presso il Murrayfield Pub, giusto? Esatto. Ok, bancarelle presenti? Diciamo la varietà di bancarelle presenti? Allora, sì, grazie a una collaborazione con l'associazione Hammond che è riuscita a portare tre band a Chiasso, di cui due si sono esibite in piazza di pendenza e una, come diceva giustamente Giacomo, al Murrayfield Pub. Bancarelle, sono state un po' track food e altre artigianato e alcune società della zona. Nel complesso direi che è uscita una serata magnifica. Quindi vuol dire che la gente è venuta? È venuta e ha partecipato bene, devo dire. Ecco. Quindi, adesso abbiamo ancora un'ultima serata, giusto? O ce n'è di più ancora? No, no. Per adesso è l'ultima. Il 19, il 19 che è il sabato questo. Esatto. E abbiamo qualcosa di particolare oltre alle bancarelle? Allora, ci saranno in giro i Baskers, che sono artisti di strada, che cercheranno di intrattenere le serate comunque interagendo nel pubblico, con i locali per creare ancora più spettacolo. E erano presenti anche sabato 12, solo che penso che pochi hanno notato che erano in giro. Ecco. Allora, visto che c'è questa novità, vi invitiamo a venire a Chiasso, perché gli artisti di strada era da un po' che non si vedevano, giusto? Esattamente. Quindi, un grande ritorno per Chiasso. Quindi, Alan, grazie del tuo intervento, anche se breve, ma efficace. Era meglio non farlo. Ci vediamo sabato 19. Grazie a te, Giacomo, grazie a tutti. Ci accettiamo mercatini, serali, di fine estate ormai, qui a Chiasso, alla Mazzolini. Grazie. Domenica 20 settembre, vernissage della scultrice e poetessa Rosita Peverelli, al Museo Plebano di Agno. L'artista è ospite in studio con Alda Bernasconi. Ringrazio Giacomo Moranti per l'ospedalità qui a Chiasso TV, che mi permette di presentare un artista che si può definire a tutto tondo. Per il momento vorrei sottolineare la sua maggiore espressione artistica, che è la scultura. Non sto a esprimere opinioni, critiche o artistiche, perché sarà lei poi a parlarvene. Voi potete prendere atto visitando la bella mostra che il Museo Plebano di Agno inaugurerà domenica 20 settembre dedicata a Rosita Peverelli. In coda verranno poi segnalati gli orari e i metodi dovuti per il Covid. Adesso passo la parola all'artista. Prego. Dunque mi presento, sono Rosita Peverelli e da anni mi dedico alla scultura. Lavoro con diverse tecniche e diversi materiali. Mi piace modificare sempre il mio modo di esprimermi. Lavoro con la terracotta, con legno, gesso, resine e bronzo, a secondo del mio momento personale. Mi piace mettermi continuamente alla prova con piccole e grandi sculture. E' proprio questa per me è una sfida. Adesso volevo parlare un attimo del Museo Plebano, dove io tengo questa mostra. La mostra del Museo Plebano mette a confronto due mondi apparentemente lontani. Perché si tratta di una mostra con delle opere mie e di una collezione del signor Bottini che ha delle opere sacre. Allora, queste opere sono apparentemente lontane, sono due mondi lontani. Però guardandoli bene da vicino si toccano nel profondo. Da una parte c'è la figura sacra e dall'altra parte c'è questa sintesi delle forme che tocca proprio il profondo dell'anima. Poi nella mostra troviamo ancora delle opere che ho voluto cimentarmi con un'antica tecnica usata nel 600-700 per realizzare gli altari. Si tratta della tecnica della scagliola. È una tecnica d'intarsio nel gesso che al tempi, come anche adesso, sostituisce il marmo. Veniva chiamata questa tecnica il scagliola e veniva chiamata il marmo dei poveri. E questo più o meno è il contesto della mostra. Rosita Peverelli si è cimentata con buon successo anche nella poesia e con le mie edizioni Ulivo ha recentemente pubblicato una raccolta dal titolo Trama a punto croce che sarà presentata sempre al Museo Plebani nell'ambito della mostra il 25 ottobre. Adesso chiedo a Rosita di darci un piccolo assaggio delle sue poesie. Allora, come dicevo prima, a me piace modificare il mio modo di esprimermi. E mi sono avvicinata alla poesia perché in quel momento la parola mi permetteva di esprimere meglio le mie sensazioni e le mie emozioni, i miei sentimenti. E facendo questo, con la poesia ho scoperto l'energia della parola, l'energia del ritmo, l'energia del suono. E per me in questo modo si è aperto un nuovo mondo. Puoi leggere una poesia? Sì, sì. Che poesia hai scelto? Ho scelto questa poesia, Memorie di Linfa. Il verde si è ritagliato lo spazio, l'occhio non ha più ombra, sbriciolata a terra non emana più colore. Lungo il grigio viale vagano ali mozzate, ricercano memorie di linfa. Su foglie spettrali risale il legame fra chi è partito e chi resta. E in ultimo vorrei dare un segno di invito anche per chi vuol visitare la mostra al Museo Plevano Agno e approfitto per ringraziare la curatrice Tiziana Lotti e tutto il municipio di Agno che mi ha sostenuto, mi ha aiutato, mi ha fatto in modo che questa mostra si svolgesse nel migliore dei modi. E questo mi sembra... Bene, nonostante il Covid ce l'abbiamo fatta, dato che la mosca era stata rimandata da inizio febbraio, no inizio marzo e abbiamo dovuto aspettare fino adesso. Comunque, rinnovo l'invito a tutti di esserci domenica 20 settembre al Museo Plevano di Agno. Grazie. Venerdì 25 settembre l'architetto e scrittore ticinese Dario Galimberti sarà ospite della società Dante Alighieri presso la Maison du Four di Ginevra per intervenire alla conferenza Edifici e Romanzi. Sabato 26 settembre altre attività legate alla mostra su Alberto Giacometti al Max Museo. Le introduce la direttrice Nicoletta Osanna Cavadini. Sabato 26 settembre c'è il nostro appuntamento molto seguito dalle neopamme, neopapà e anche famiglie con piccoli bambini. Si intitola appunto Mamma, papà e bebè al museo. Dalle 10.30 alle 12 sarà possibile seguire con mediatrici culturali all'interno delle varie sale uno stimolo che non è solo per i bambini piccoli perché è possibile entrare all'interno del Max Museo con carrozzine, passeggini ma è anche piacere dei genitori di poter affrontare un momento così dedicato all'arte e spensierato che è anche in confronto con altre famiglie. e quindi Mamma, papà e bebè al museo terminerà con un aperitivo analcolico a base di succo e di frutta all'interno del Max Museo. Sabato 26 settembre alle ore 16.30 è possibile seguire una visita guidata gratuita con il solo pagamento del biglietto di ingresso, visita guidata che terrò nello specifico all'interno delle sale del Max Museo e quindi ci sarà un momento con il pubblico che si presenta anche senza prenotazione, massimo i limiti consentiti appunto dalle norme Covid ma sarà piacevolmente un'occasione per poter guardare assieme le opere di grafica del grande maestro Alberto Giacometti e terminare con un momento di brindisi finale alla chiusura del museo alle ore 18.00. Per questa edizione è tutto, a ben rivederci alla prossima edizione di Chiasso News. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori